Ma di quale Tommaso parli? Ah, sì. Quello che avrà avuto 7-8 anni e mi ha sfruttato la porta per chiedermi un filo di rame. Sì, sì. Per farci un esperimento scientifico, mi disse. Sì, sì, è lui. Quello, Tommi, che poi una ventina di anni dopo mi ha portato in giro per Londra a cena a Woyamama, a birra in uno dei più casinati pub di vita. Sì, sì. Sì, sì, ok, è lui. Aspetta, aspetta, che il falso di lui. Aspetta, aspetta. Buon compleanno, Tommi. Ciao.